ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di ephemeral minature garden oggi dobbiamo cominciare il secondo episodio con yugo e io ovviamente non vedo l'ora di scoprire di più sul suo personaggio quindi cominciamo subito subito dopo aver parlato con yugo immensa mi dirigo alla stanza che mi hanno assegnato stiamo ricordando ok mentre parlavamo con yugo quando sarà ora di cena ci chiamerò di nuovo fino ad allora riposati in stanza infatti noi ci stiamo riposando ma anche se mi dice così mentre sto seduta sulla sedia che è stata preparata per me sospiro guardando quel coso che ho davanti a me cos'hai davanti e evan quel coso ma è una persona beh perché sospiri e quello quindi sei attratta da me ma questo proprio sei mentalmente confuso poverino medico cura te stesso e rispondendogli così seccatamente mi giro dalla parte opposta offesa quando pensavo che yugo se ne fosse andato ecco che è arrivato quest'altro qui e senza che gli dessi il permesso di entrare si è infilato nella mia stanza in maniera autoritaria com'è la stanza che ho preparato per te non mi piace vero è una stanza caratterizzata dallo stile dell'ex aiutante parliamo ma che è ma se hai appena detto che l'hai preparata per me se non ti piace puoi modificarla come più ti aggrada quindi se non hai altro da dirmi te ne puoi andare via subito che cattiva e pensare che ti ho portato una bella cosa tada dai guarda cos'è ma dai è ovviamente un vestito da cameriera no ti sarà benissimo sei contenta e come una vasqua contenta è impossibile che lo sia stupidaggini l'avevo capito subito che si tratta di un vestito da cameriera non intendevo quindi chiedere cosa fosse ma perché vuoi farmi mettere quella roba lì beh con i tuoi vestiti farai fatica a muoverti no invece con il vestito da cameriera sarai più facilitata mi stai dicendo che non ci sono altri uniformi cedere di 100 milioni anche se accetto di fare l'aiutante non voglio assolutamente indossare vestiti che indossano i camerieri non dire così non ordinato altri vestiti quindi avresti solo i vestiti che stai indossando oggi capisci ordinare dei vestiti ci impiega molto tempo nel frattempo continuerai a tenere sempre quei vestiti ecco ah giusto allora finché non arrivano gli altri vestiti vuoi mettere quelli di lulu ha così tanti vestiti che ce ne sono anche per te non parliamo ma quelli di lulu sono da infermiera ho capito metterò quello da cameriera davvero ma come sono contento allora ti lascio questo qui per il resto pensaci tu al suo occhiolino mi viene da dargli davvero un bel pugno noi lo odiamo evane si allontana dalla stanza tutto arzillo stordita da quel che è successo ora rimango lì in bambolata a fissarlo che se ne va non ci credo nel momento in cui la porta si chiude mormoro senza forza alcune ore dopo eri sono io yugo siccome fra un po' è ora di cena andiamo insieme noi non parliamo siamo seccate la voce di yugo e che già con un bel suono di bussare però rimango i piedi davanti alla porta senza dire una parola eri che succede stai male oppure sei arrabbiata per qualcosa o sei triste e per entrambe le cose come anche no arrenditi dai oggi te ne vai via non voglio assolutamente che mi veda in queste condizioni eri ci sei no perché stai zitta eri che insistente smettile vattene via presto nessuna risposta se è così non c'è nulla da fare eh eri scusami eh butta a terra la porta sicuro ancora prima di chiedere per cosa la porta si apre ah pensavo la buttasse a terra con un calcio rotante la porta della stanza si apre vigorosamente lasciandomi sconcertata eri ma si può sapere che è quello tu perché entri nella mia stanza senza permesso era chiusa a chiave no sì ma prima che tu venissi qui il professore mi aveva dato una copia delle chiavi mi aveva detto di tenerle e di usarle se succede qualcosa quel maledetto medico non posso avere neanche privacy qui allora io proverei a dire la seconda non entrare più senza permesso ovviamente puoi anche tenerti la copia delle chiavi ma non entrare più senza permesso scusami non entrerò più senza prima chiederti se posso ti ho chiamata più e più volte ma non rispondevi e quindi pensavo ti fosse successo qualcosa certo però che quell'uniforme ti dona eri non mi fa certo piacere che mi fai complimenti stavi zitta senza rispondermi perché non volevi farmi vedere come sei vestita che carina mi prendi in giro ora assolutamente no non ho ragione per prenderti in giro ti donna davvero è molto carino lui nel mentre arrossito ma insomma dire queste cose e prendermi in giro che questi vestiti da cameriera mi donino è un terribile insulto ah questo intendi e quindi sei arrabbiata per questo che siano questi vestiti da cameriera o vestiti di classe tu rimani eccellente qualsiasi vestito ti donerà sempre quindi vivrai qui indossando quest'uniforme contro voglia eh non ci posso far nulla non lo sto indossando perché lo voglio sei di cattivo umore eh che peccato vorrei tanto vantarmi con gli altri di una così bella aiutante vabbè lui proprio completamente diverso dagli altri due personaggi proviamo a dire la prima non dire bugie non mentire messa così di sicuro mi prenderanno in giro prenderti in giro questo non è che pensi questo perché tu stessa prendi in giro il ruolo di cameriera eh tutti incluso me siamo sicuramente grati per gli aiutanti che ci sono stati portati qui fino ad ora dopo tutto gli aiutanti hanno sempre fatto al nostro posto i lavori che avremmo dovuto compiere è ovvio no perciò i tritoni che ci sono qui non guardano con superiorità la posizione di cameriera e nessuno ti prenderà in giro nessuno ma non mi va questo vestito lo odi così tanto eh allora puoi anche non indossarlo però ma evan mi ha già detto indossa l'uniforme da cameriera puoi anche disobbedire ad una cosa del genere anche se sono riluttante non posso ritirare ciò che ho detto assolutamente lui non parla si mette a ridere ok ma che c'è di così strano mi stai prendendo in giro quindi no no anzi è l'incontrario questa tua serietà mi ha commosso se fossi in te ritirerei quello detto in precedenza e se non lo ritieni un obbligo allora non ti senti neanche in colpa ma che se cambi le carte in tavola così facilmente non avresti neanche dovuto dire quelle cose questo è dopo tutto il modo di comportarsi orgoglioso delle sirene anche tu sei un tritone ossia una sirena si consapevole di questo come sirena e tu sei proprio bella quando dici queste cose senza alcun dubbio se tu sei convinta di questo e vuoi tenere quel vestito allora io ti proteggerò ma quanto è carino lui se ci fosse qualcuno che ti dicesse qualcosa in merito a quel vestito dimmelo subito e cosa farai riceveranno la giusta punizione per aver ferito la mia preziosa aiutante ok ieri è una promessa se qualcuno ti fa del male per favore assicurati di dirmelo se quel qualcuno fosse anche il professore evan non lo perdonerò per averti ferita ma che dici yugu mi mostra un sorriso affascinante a non sorridere però sono solo i suoi occhi ma che dice così all'improvviso questo qui il mio cuore sta battendo all'impazzata come se fossi stata presa da una brutta aritmia non posso credere di essere emozionata dalle parole di questo qui e poi piuttosto che essere emozionata anche se il mio viso è caldo sulla schiena sudo freddo emozioni sconosciute stanno prendendo il sopravvento non vorrei mai riconoscerlo ma la gioia e la paura sembrano mischiarsi eri mi stai ascoltando sì ad ogni modo faremo così ok quindi è una promessa dunque andiamo dove nella mia stanza ti ho detto no che sarei venuto a chiamarti per la cena no perché nella tua stanza per mangiare non si va alla mensa del primo piano i pasti qui si gestiscono in turni se mangi in mensa finirei per avere un turno dove devi cucinare in mensa ma vi fate da mangiare per conto vostro si il turno è di solito una volta ogni due settimane e colui che di turno deve cucinare per venti persone due volte a pranzo e a cena per venti persone al solo pensiero sembra un bel lavoro eh se non vuoi cucinare per molte persone allora devi prepararti da solo i pasti senza usare la mensa visto che io ho te come aiutante normalmente tutti i miei pasti dovrebbero essere preparati da te non voglio certo fare da mangiare per quasi venti persone ma è una rottura fare da mangiare a yugo ogni giorno e mentre penso a quale delle due soluzioni sia la migliore per il momento pensavo di occuparmi ne io tu intendi la mia e la tua parte sì anche perché hai detto che non hai neanche un minimo di esperienza in cucina e poi non voglio entrare nella turnistica per dover cucinare in mensa no sì beh è ovvio visto a dire la verità in passato ho avuto un periodo in cui ero preso dalla cucina dopo tutto non mi dà così fastidio cucinare e non sono neanche male ti piace cucinare wow e pensare che cucinare fosse un compito che potesse essere compiuto solo da un cuoco invece esistono persone che lo fanno anche solo per hobby pertanto per il momento cucinerò io ecco grazie ma sei sicuro dovrebbe essere un mio compito no va bene se invece lo fai tu non è un problema dopo tutto penso che questo genere di cose le debba fare che ci riesce tu sei la mia aiutante ma non ho intenzione di guardarti dall'alto in basso vorrei che fossimo amici alla pari cioè ok lui è l'unico che si sta comportando in questo modo è incredibile amici al sentire queste parole così inaspettate mi sbigottisco e come sempre quando servo questo tizio il collo mi fa male più che essere un'insicurezza indescrivibile a parole più che essere sospetto questi sentimenti non credo spariranno ma questo ragazzo potrebbe essere più gentile di quanto pensassi dai se siamo d'accordo sbrighiamoci e andiamo nella mia stanza yugo allunga verso di me la sua mano questa sua eleganza lo fa sembrare come se fosse un principe delle favole dopo essere andata nella sua stanza ho mangiato un piatto davvero delizioso lui mi ha detto non è nulla di che per ora davvero un piatto ben riuscito per il susseguirsi di numerose cose nuove non mi ero accorta che avevo fame e in men che non si dica ho completamente divorato quel piatto e ok è finito così anche questo episodio che ho trovato molto carino cioè lui tra tutti i personaggi è quello più dolce tenero amichevole non è per nulla rude e antipatico come gli altri due quindi non lo so questo mi fa sperare che i due ragazzi si moreranno praticamente subito lei non capisco se è interessato o no visto che gli vengono degli strani dolori quando lo guarda però lo scopriremo ovviamente andando avanti con la storia quindi aspetto come sempre di leggere i vostri commenti giù se questo video vi è piaciuto mi raccomando non dimenticatevi di mettermi quel pollice in su se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video noi ci vediamo in un prossimo gioco ciao